ciao bambini guardate che cosa abbiamo oggi una nuova blupis si tratta della blupis sicuramente più bella sul mercato si chiama swimming mimi è un po più grande rispetto alle altre blupis e ha più accessori vedete la confezione vediamo già un salvagente poi le solite pinne la maschera c'è scritto nuota a perché questa blupis a differenza delle altre sa nuotare guardate il costumino carinissimo rosa con una balza in tulle adesso l'apriamo continuiamo a vedere la confezione ovviamente la potete utilizzare d'estate ma anche durante il bagnetto ed è adatta ai bambini dai 24 mesi sulla confezione c'è scritto che mimì nuota in molti stili diversi sul retro infatti vediamo una bambina e la vasca da bagno che sta facendo nuotare mimì ecco qui come tutte le blupis ovviamente fa le bolle e spruzza l'acqua se siete alla ricerca di una bellissima blupis questa è sicuramente la migliore e l'ultima che è stata lanciata da imc toys questo è l'altro lato della scatola vediamo mimì in bagno che fa il bagnetto quindi adesso l'apriamo vediamo cosa c'è nella confezione nella scatola troviamo un libretto di istruzioni che ci fa capire che per mimì ci vogliono ben tre batterie da 1,5 volt vedete ecco qui cosa troverete all'interno della confezione abbiamo la bambola la maschera le pinne che si tolgono facilmente a differenza delle altre blupis era difficilissimo toglierle e poi abbiamo un salvagente molto carina vedete il viso è molto curato ha un bel tuffetto con un fiocchetto rosso eccola qui guardiamo i miei anche da dietro vedete se il vano batteria a differenza delle altre blupis che non hanno le batterie perché non nuotano da sole ecco qui questo è tutto la bambola è bellissima e la blupis più bella quindi se vi state chiedendo quale blupis dovrei comprare questa è la migliore ecco qui la nostra blupis al completo vedete ha il salvagente la maschera e le pinne in descrizione trovate il link per acquistare questa bambola da dove l'abbiamo comprata noi ad un prezzo veramente conveniente conviene comprare questa rispetto alle altre blupis che hanno pochissime funzioni non ne hanno affatto in realtà perché non hanno la batteria eccola qui adesso non non ci manca che provarla durante il bagnetto inoltre vedete per togliere il salvagente si va così in salvagente sempre in due e poi lo si richiude se ve lo state chiedendo sì questa è l'unica blupis che è stata fatta in questa variante quindi che sa nuotare da sola con le batterie non ci sono altri modelli che io ne cercavo una bruna ma in realtà non c'è perché la mia bimba è bruna ma c'è solo bionda per adesso speriamo che imc toys scelga una via più inclusiva per le blupis che sanno nuotare da sole allora le facciamo prima riempire aspetta le facciamo riempire facciamo riempire la bocca il pancino si spinge spingiamo il pancino e adesso attenta che la bimba sta spruzzando eccola 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 veступla è bellissima fa la nuotare la nuotare alla nuota eh 頻道 anche apure a testa in giù tiriamola vediamo spruzza continua a nuotare non si ferma più è bellissima passa il tempo facciamo vedere anche come spruzza con la maschera e nuota con la maschera